Sì, soddisfatto perché ci tenavamo a vincere da tre punti questa sfida, soprattutto perché eravamo in casa. Spero che ci serva per il morale. Abbiamo faticato in alcuni momenti, anche per merito di Reggio, che ha fatto una gran partita al servizio, ha forzato tenendo molto. Quindi noi siamo stati bravi comunque a rimanere attaccati quando la cosa si faceva più difficile. Quindi siamo molto contenti della prestazione dei tre punti e adesso testa in settimana per cercare di strappare qualcosina a Siena.